Si trova nel reparto di anestesia e riannimazione di Ancona Marco Cuccarini, l'operaio edile di 26 anni di Rio Salso, che lo scorso 15 maggio è precipitato da un'altezza di circa 8 metri nel cantiere che vede la realizzazione in corso del teatro di Bottega. L'ennesimo infortunio sul lavoro, causato in questo caso da una caduta nel vuoto, che è costata a Marco due traumi cranici, diverse costole rotte, il bacino incrinato, la frattura dei polsi e il danneggiamento dei polmoni, di cui uno è stato perforato. Il cuore è perfettamente funzionante e non c'è stato alcun interessamento delle vertebre. Il giovane operaio si trova attualmente in coma farmacologico, ma negli ultimi giorni, dopo le prime ore preoccupanti successive all'incidente, sembrerebbe aver dato dei piccoli segnali incoraggianti. Il ragazzo sta riacquistando una buona percentuale di respirazione autonoma. Questo è quanto i medici hanno comunicato in queste ore alla famiglia. Se è chiara la cartella clinica di Cuccarini, per nulla è stata resa trasparente la dinamica dell'incidente. Erano circa le 11 del mattino quando il giovane lavoratore, sotto contratto come apprendista dal 2021 con la ditta Mulazzani, imprese incaricata a completare il teatro comunale Giovanni Santi di Bottega, è precipitato per cause in vie d'accertamento dal secondo piano nel vuoto dell'androne interno al cantiere. Immediatamente è stata allertata l'eliambulanza che ha trasferito il ferito all'ospedale di Torrette. Tante sono le domande senza ancora una risposta. Come ha fatto Marco a precipitare? Che protezioni di sicurezza indossava? Quali autorità sono intervenute, ma soprattutto perché il cantiere è ripreso e non è mai stato interrotto?